eccoci qua ben trovati oggi parliamo con un giovane autore ciao greco direttamente dalla puglia buongiorno a tutti io sì sono vivo a taranto in puglia anche se realtà sono nato a martina franca un piccolo paesino in provincia appunto di taranto e sono un grande appassionato di musica cioè io sono cresciuto con la musica sempre pensato che questa fosse l'arte in grado di comunicare più di qualsiasi alta senza nulla togliere alle altre per carità sono appassionato della cultura in generale sono appassionato anche del della pittura della scultura e di quant'altro però ovviamente diciamo la musica il campo che più mi ha colpito fin da ragazzino la musica la fa da padrone eh in un certo senso sì perché essendo l'arte più astratta diciamo poi va interpretata in modo molto soggettivo e quindi è più personale mettiamolo in questi termini la musica riesce ad essere più personale per ognuno oppure essendo di tutti quant'anni sei giovanissimo giovanissimo ventitré anni compiti a mangi quanto mia figlia potresti essere mio figlio eh senti raccontaci un pochino di te dai come come hai iniziato con la musica quanto tempo fa allora io diciamo che ho iniziato con la musica in silenzio mettiamolo in questi termini cioè senza farmi notare neanche dei miei genitori ma molto insordina fin da bambino cioè mi indirettavo nel canto andavo ascoltare i dischi e andavo a trovare tutti i brani diciamo più disparati possibile successivamente dall'età di di chi eh diciamo da tom jones ai queen david bowie come anche ho avuto anche una grande passione per il rap americano quale tupac notorio su dottor dream eminem e successivamente è sviluppato anche una fase sviluppata anche una passione per il canto autorato italiano quindi parliamo di giorgio gabber di luigi tenco fabrizio di andrè iannacci insomma sei giovane ma sei un ottimo ricercatore ai ottimi sì sì a quanto sento diciamo io sono dell'idea che per comprendere il presente dobbiamo prima conoscere il passato un po come in tutte le cose vero 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 un giovane saggio sì diciamo che saggio è una parola un po troppo grande però un giovane abbastanza arguto quindi vai proseguiamo e quindi poi successivamente quando divento adolescente quindi a 15 15 anni 14 15 anni inizio ad approcciarmi allo studio di uno strumento qual è la chitarra che infatti è anche tatuata qui sul sull'avambraccio non so se si vede si intravede l'abbiamo intravista l'abbiamo intravista la passione per la chitarra te la sei tatuata addosso sì perché diciamo è stato il primo strumento che mi ha portato poi a interagire in un modo diciamo più ampio con la musica perché una volta che tu ti approccia uno strumento e comprendi cosa è un'armonia cosa è una melodia cosa è una scala riesci a vedere la musica con occhi diversi mettiamola così nel lato tecnico però ovviamente la chitarra non è il solo strumento a cui gli anni successivi mi sono abbracciato anche ho avuto un approccio con il pianoforte ho studiato il pianoforte e continuavo a riprendere quando avrò un po' più tempo disponibile con un maestro qui a Taranto e successivamente qualche anno dopo a 16 17 anni circa ho iniziato a scrivere le prime canzoni oh finalmente a cosa di cosa parlavi e di cosa parli nelle tue canzoni di cosa parlavo parlavo di cose molto banali a 16 a 7 anni magari anche con qualche parola in alto locata ma fondamentalmente non trattavo diciamo argomenti molto complessi anche perché poi a 16 anni ovviamente si ha l'esperienza di 16 anni anche se oggi ragazzi di 16 anni sono molto avanti e voi e voi di 23 siete avanti avanti anni luce rispetto ai nostri 23 anni luce fa vai e quindi diciamo ho iniziato a scrivere le prime canzoni la prima la primissima canzone che ho scritto a 16 anni appunto si chiamava il treno della libertà che essenzialmente parlava del del fatto che tutti noi cerchiamo la libertà e quando poi senza effettivamente capire cosa sia la libertà perché la libertà è una parola troppo grande però comunque comunque descritta con gli occhi con la penna di un 16 anni quindi corso degli anni poi rivedendo l'idea è buona però poteva essere sviluppata meglio successivamente nel corso degli anni appunto continuato a scrivere in modi ho notato personalmente che c'è stata una vera e propria maturità che ho acquisito e sto finendo di acquisire ovviamente nella scrittura e però ovviamente tutti questi questi miei canzoni questi miei brand li ho ottenuti geniamo pronti e li tengo pronti per il momento adatto attualmente dal 30 di luglio pubblicato il mio primo effettivo singolo dal titolo ragazzina ragazzina come mai ragazzina ecco ragazzina è molto ironico come brano è molto ironico perché tratta cioè si contestualizza lo stereotipo della ragazzina appunto viziata vanitosa quindi i suoi modi di fare che possono infastidire come allo stesso tempo attrar paradossalmente un po' come anche accadene noi ragazzi per carità e quindi ho voluto ironizzare questa figura con una musica che spinge sul pop proprio rock che pop cercando appunto di come dire calcolare un po' come viene definita questa ragazzina quindi la ragazzina che appunto è vanitosa quindi cammina per la strada non degna neanche di uno sguardo o che ha tanti soldi e magari li sperpera senza curarsi perché tanto non le ha guadagnati lei e tutte queste queste piccole sfaccettature che in realtà poi creano una figura bella delineata cosa pensi dei social questo è un brano che è adatto ai social si sicuramente è moderno nelle sonorità e anche nell'argomento magari in passato non si spetteva a trattare mettiamola così ma sicuramente penso che i social sono molto importanti ovviamente e bisogna anche saper gestire e saper stare dietro magari io devo ancora imparare perché comunque sia un lavoro che anche quello va imparato come tutti i lavori assolutamente sì e ovviamente abbiamo 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 questo brano no ragazzina le pagine social dove si può vedere anche il videoclip su youtube si su youtube nel canale youtube greco con la k al posto con la k come mai greco con la k mi ecco allora questa è una bella storia greco con la k sarebbe il mio cognome solo al posto da raccettiamo la k perché io in passato facevo sport da combattimento e avevo scritto faccio precisamente taekwondo avevo scritto dietro al do box si chiama nel taekwondo la divisa e la scritta greco che cappa o sta appunto significare cappa o sono riuscito a vincere parecchi incontri per cappa o e allora mi sono dato insieme a dei miei amici questo questo nominio successivamente abbiamo avuto un'infortunio dovuto smettere però ho voluto riportare questa passione che avevo per lo sport da combattimento in quella nella musica per non farla diciamo affievogliere totalmente ma resta facendola restare sempre un piccolo vivo un minimamente vivo assolutamente sì senti anche la pagina facebook pagina facebook sì praticamente il mio il mio nome e cognome però diciamo che fondamentalmente i social su cui lavoro di più sono youtube ed instagram 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 mi chiamo greco trattino basso x trattino basso eccoci qua eccoci a quindi allora benvenuta ragazzina possiamo dire come non è venuta ragazzina sì 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 e benvenuto a greco grazie mille grazie mille ciao grazie a voi salve grazie a voi